nel video precedente abbiamo realizzato questa grafica per una story di instagram adesso vediamo come si può trasformare una grafica in una gif per prima cosa premo command h per nascondere le guide che una volta che il design è fatto non mi servono più allora noi qui abbiamo due livelli che ci interessano ovvero l'immagine del nostro animale e la sua silhouette volendo potremmo anche fare una cosa potremmo prendere il testo e duplicarlo preventivamente così abbiamo tutto quello che ci serve prima di cominciare a lavorare sulla gif non solo qui andiamo nella copia del testo a scrivere il nome dell'animale per cui avremo che animale ecco la silhouette e poi avremo camaleonte visibile ora quello che andiamo a fare andiamo a lavorare nel pannello timeline se non ce l'abbiamo lo apriamo da qui io ce l'ho già vado a dirgli crea animazione fotogramma e lui automaticamente mi crea un primo fotogramma io questo fotogramma devo decidere quanto deve durare gli dico un secondo una volta che l'ho impostato quando creo un nuovo fotogramma avrà la stessa durata posso andare a cambiarla per singolo fotogramma o selezionandoli tutti cambiarla per tutti ma a me va bene che sia un secondo per cui vado a crearne un altro allora intanto mettiamo a posto il primo perché nel primo io voglio che animale è e voglio la silhouette e basta nel secondo io vado a spegnere la domanda e accendere la risposta e vado a spegnere la silhouette e accendere l'immagine a questo punto se mi posiziono sulla prima e primo play continuerà a loop perché io gli ho detto sempre potrei dirgli di farmelo girare una volta sola tre volte o a loop questa impostazione è valida anche in esportazione per cui quello che gli dico qui avrà poi effetto sull'esportazione una volta che sono soddisfatto e la mia timeline è quindi definita qui è molto scarna però è giusto per dimostrazione quello che vado a fare è che vado a salvare per il web quindi command shift alt s o control shift alt s se siete su pc ora io qui ho il mio preset che si chiama mygif semplicemente le impostazioni sono queste quindi predefinito con formato utilizzato gif 128 colori algoritmo di riproduzione selettiva specifica dell'algoritmo pattern insomma potete copiare dithering di trasparenza questo è importante potete copiarvi i parametri sono assolutamente questi sono quelli che uso tutte le volte le dimensioni dell'immagine dipendono dall'immagine sempre qui posso ancora andare a cambiarlo decidere se voglio farlo andare in loop una volta sola o in loop continuo una volta che ho impostato correttamente tutti i miei parametri non faccio altro che salvare mi viene chiesta una location in cui salvarlo e adesso se io vado a recuperarlo eccola qui io la vado ad aprire e la mia gif scorre a loop perché gli ho detto sempre quindi è un loop infinito allora non 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 Grazie a tutti.